Questi due due, se vi fa piacere, siete andati in vantaggio nel primo tempo? Per come si era messa la partita, diciamo, c'è un po' di rammarico, però al secondo tempo sono usciti anche loro, quindi non è stata una partita facile e d'altronde lo sapevamo. Allora arrivano una settimana di ritiro con un zone di punti assolutamente, noi volvamo continuare a dare le buone prestazioni e cercare punti, non siamo riusciti a vincere, però era importante anche per come si era messa poi. Appena è entrato un assist per l'Aner che ha pareggiato, poi nel finale ancora protagonista per una trattenuta che ha scatenato le proteste. Sì, sono contento per Sivo perché ha fatto due ruole e anche per me sono riuscito a entrare subito. in partita, ci sono stati degli episodi, ha fatto correre molto l'arbitro durante tutta la partita, poi io non ho neanche visto bene, non potrei neanche dirti, certo che magari da qualche altra parte qualcosa in più hanno fischiato. La maglia è stata tirata? Guarda, ti dico non l'ho visto, non l'ho visto, però dai, al di là dell'arbitro mi ha fatto una buona gara, perché sapevamo che era una partita dura. Magari, diciamo, anche stare più avanti.